bene siamo sempre a casa di giuseppe marconi e anche stasera vedo che non è voluta mancare la nostra minuqua questa non si muove di qui assolutamente stasera mi sono messo a sedere e lei subito attacca ho detto ieri sera gli piace ha fatto una conquista gli hai messo un tutu qui che gli hai messo e il golfino è freddo parla bestia è freddo in questi giorni va bene e caga minu ma lei al duomo non c'è mai stata penso proprio di no se perché minu parliamo del duomo stasera del sagrato del duomo ne abbiamo parlato tante volte perché ora beppe siamo arrivati al dunque sembra che tolgono i cartelli con disviato di sosta zona perdonale tolgono le auto sembra che dal 25 gennaio lunedì il giorno off limits per le auto la sera dalle 20 alle 8 della mattina dopo ci saranno dei posti per i residenti sai che il comitato parcheggi centro storico ha fatto una polemica con l'assessore vice sindaco gamurrini e via dicendo e quindi insomma sembra che ci sia finalmente la svolta che questo sagrato che come possiamo vedere anche oggi era ridotto così nel senso che era pieno di auto anche i turisti fotografavano da lontano il duomo con queste auto parcheggiate e con i cartelli di zona perdonale zona perdonale e quindi ci siamo finalmente secondo te? ma secondo me non ci siamo perché togliere le auto di giorno per metterle di notte super giusto questa cosa pensa d'estate quello che succederà quando il prato è invaso dagli aretini che non potranno mettere le auto lì sicuramente verranno fuori i problemi comunque sia prima di tutto togliamo come i netti cartelli zona perdonale perché è veramente ridicolo scrivere zona perdonale accanto per tutte le macchine pieno di macchine e nessuno gli dice assolutamente niente perché logicamente le sono uffici pubblici quindi chi utilizza quel parcheggio abusivo si sa che sono ci sono le scale mobile tanto comode però le scale mobile hanno messo a pagamento per cui adesso logicamente un dipendente comunale o un dipendente provinciale o un dipendente pubblico che deve andare poi a lavorare in comune o in provincia non può stare otto ore a pagare il parcheggio questo è vero però diciamo autorizziamo il parcheggio lì in un certo modo per tutti facciamo pagare quello che si è pagato e chiuso e festa finita quindi tu sei favorevole al parcheggio a pagamento nel sagrato del Duomo sicuramente si regolamentato si ma che adesso che il giorno nessuno ce lo possa mettere e la sera dalle 8 fino alla mattina di 7 che i residenti possano mettercelo mi sembra veramente illogico quindi secondo te è un'utopia pensare che nel sagrato del Duomo non si debba parcheggiare per niente no non sono un'utopia ma in questo modo di via è solo una ricerca di voti hanno votato adesso? che voti hanno bisogno? è una ricerca di voti perché tra 5-4 anni tra 4 anni ci sono le elezioni un'altra volta quindi è semplicemente solo una ricerca di voti perché i nostri politici non sanno fare altro e altro che lavorare in virtù dei voti che si guadagliano e che i voti che perdono non vedono in base ai bisogni dei cittadini questo purtroppo è la realtà quindi qui si opera soltanto nel senso di avere voti e votare voti è proprio a primo partito c'è un'elezione i residenti si spostino in campagna si spostino in campagna assolutamente no man mano trovate delle soluzioni alternative per far sì che però non si vendano così platealmente tutte queste macchine nei posti più belli della cittadinezza e va bene con questa vena malinconica c'è il prato su alcune zone del prato dovrebbero parcheggiare c'è un bel parcheggio al cimitero sotto le mura insomma qualcosa potrebbe essere utilizzato invece del sagato del Duomo bene grazie Beppe vedremo se giovedì potrei tornare all'aperto se ci ritroveremo qui con Minou Millou ah Millou avevo capito Minou perché effettivamente è abbastanza Minou non smuove tanto quella mano ma la vedo tranquilla si intanto smuove all'improvviso ti fa un salto addosso nella mano ti dà un morso perché quella mano la devi tenere buona ci vediamo domani ciao ciao